Un braccio di ferro senza fine che si gioca sulla pelle soprattutto dei cittadini dei piccoli comuni che sono costretti per lavoro e per studio a percorrere l'autostrada. E' il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi a dire basta al braccio di ferro tra Ministero delle Infrastrutture e la società concessionaria Stada dei Parchi, perché dice i territori colpiti dai terremoti del 2009 e da quelli più recenti non se lo meritano. Biondi ha sentito questa mattina i vertici di Stada dei Parchi che ribadiscono la volontà di proseguire nella loro posizione fino all'ultimo giorno, il 29 giugno quando scadrà il decreto interministeriale del 31 dicembre 2018 aprendo la strada a partire dal 1 luglio all'incremento del 20% dei pedaggi autostradali. Nessuna notizia ufficiale dal MIT sul procedimento per l'approvazione del nuovo piano economico e finanziario dentro al quale dovrà esserci anche la previsione di investimenti per la messa in sicurezza dell'autostrada. E in una situazione del tutto sfuggevole in cui il ministro Danilo Toninelli rifiuta di incontrare i sindaci questi ultimi si preparano a nuove proteste. La cosa inaccettabile, così che mi ha caduto in occasione della paventata chiusura del traforo del Gran Sasso è che le popolazioni delle aree interne, di questo territorio in particolare sono utilizzate come scudi umani in questa guerra che è una guerra economica, non è una guerra di principi. C'è il ministero delle infrastrutture che fa blocco sul nuovo piano economico e finanziario proposto da Toto, dalla società Strada dei Parchi ma senza dare delle alternative valide. Noi come al solito faremo la nostra battaglia, a noi non ci interessano le questioni economiche a noi ci interessa la salvaguardia delle popolazioni delle aree interne. Io questa mattina stesso ho sentito di nuovo la concessionaria, loro sono fermi, naturalmente come al solito porteranno fino all'ultimo giorno la questione e noi stiamo studiando insieme agli altri sindaci se ci sarà bisogno di nuove iniziative clamorose. E sulla questione caro pedaggi, i capigruppo della coalizione di centro-sinistra chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio regionale. La Giunta regionale, sostengono i consiglieri, deve chiedere al Governo di sospendere gli aumenti fino al 31 dicembre 2019.